amiche amici del corner Sampdoriano bentornati anche se diciamo che è un termine da mettere tra mille virgolette sembra passato un sacco di tempo dall'ultima volta che ho pubblicato un video e cioè dopo la vittoria in casa contro l'Empoli e diciamo che c'è molta distanza anche a livello di contenuti al termine di questo Atalanta Sampdoria quattro a zero su cui sarà molto difficile trovare delle parole interessanti trovare qualche spunto in più da aggiungere a quello che ha detto il campo e che sicuramente avrete visto è stato tutto molto chiaro al Ghevis Stadium certo possiamo dire una delle prime cose che mi vengono in mente è che tra virgolette ci mancava la scopola brutta pesante quella che l'Atalanta in questi anni ha dato a parecchie squadre e tante volte quando la Sampdoria andava a giocare lì forse ci si temeva si poteva aspettare anche perché spesso si è andati a giocare in casa di un Atalanta gli anni scorsi che stava meglio e invece la Sampdoria in questi anni contro l'Atalanta di Gasperini se l'è sempre giocata togliendosi anche delle soddisfazioni oggi quella scopola è arrivata contro una squadra che da un lato era ferita di cui si parlava soprattutto per quanto riguarda le polemiche arbitrali eccetera eccetera non vinceva in casa da un sacco di tempo questo però noi sappiamo bene che insomma è chiaramente una cosa di cui assolutamente non fidarsi e era difficile in ogni caso arrivare con particolare fiducia a una gara del genere che è andata a senso unico decisamente dicevo si fa fatica a trovare le parole me ne sono scritte alcune a livello di spunti perché analisi tattiche o meglio analisi tattica non è che non si può fare si può fare ma è molto semplice l'Atalanta ha fatto la classica gara d'Atalanta volendo fare un così una sottolineatura veramente un dettaglio che però è curioso abbiamo visto l'Atalanta di Gasperini con la difesa a quattro con un quattro due tre uno e una squadra di Giampaolo invece anche se qui da un po' di tempo ma anche l'Atalanta l'aveva già fatto la difesa a quattro quindi insomma era un inedito per modo di dire ma fa strano vedere Gasperini che peraltro oggi era squalificato c'era Gritti in panchina che affronta Giampaolo e Gasperini c'è la difesa quattro Giampaolo c'è la difesa a tre o a cinque la prima parola che mi viene in mente è motore proprio il motore di queste due squadre è diverso anche perché l'Atalanta è la dimostrazione e oggi lo è stato ancora una volta che il sistema di gioco o modulo insomma non è necessario non è una condizione totalmente necessaria sempre per permettere una squadra di mettere in campo la sua identità e le idee che gli ha trasmesso il suo allenatore l'Atalanta ha fatto la sua partita la sua espressione massima l'ha messa in campo pur appunto con non con quel tre quattro due uno che è il suo proverbiale marchio di fabbrica anche perché mancavano gli attaccati lo sappiamo i colombiani doveva giocare Malinoski che però si è infortunato nella rifinitura e al suo posto ha giocato Pasalic che invece giocando da prima punta ha fatto una partita chiaramente insomma positiva ha sbloccato il risultato con gol da attaccante vero motore diverso le due squadre proprio hanno un motore diverso infatti io non so secondo me l'unica cosa che si può approfondire dalla parte blucerchiata in questa partita è chiedersi quanto preoccupante sia questa sconfitta nel percorso nella traiettoria che sarà sicuramente molto molto difficile fino alla fine verso la salvezza perché è evidente che è una prestazione che è totalmente negativa non ci sono note liete in questa partita la Sampdoria ha perso tutti i duelli perché chiaramente l'Atalanta questo mette sul campo e i duelli uno contro uno per tutto il terreno di gioco erano abbastanza chiari dall'inizio era interessante la lettura che aveva dato Giampaolo prima della partita nell'intervista su Dazon immediatamente prima del pischio d'inizio e cioè aveva detto due cose interessanti nella sua lettura di come gioca l'Atalanta per adattarti o per cercare di fare partita contro i Bergamaschi devi giocare a mezzo tocco per dire che non basta giocare di prima ma devi giocare ancora più veloce di testa perché ti arrivano sempre addosso questo evidentemente la Sampdoria non è riuscito a interpretarlo non l'ha messo in campo sembrava una squadra quasi sorpresa dal modo di giocare dell'Atalanta quando invece insomma lo conosciamo lo conosce tutta Italia inizia a conoscerlo anche l'Europa da un po' di tempo tra l'altro mi sembrava di vedere nello scarto nella distanza tra le due squadre lo scarto che abbiamo visto in questi anni solitamente quando le italiane vanno a giocare in Europa soprattutto contro le squadre inglesi c'era quella differenza di ritmo di aggressività di fisicità che solitamente vediamo eh nelle sfide europee delle italiani contro le formazioni di Premier League eh l'altra lettura questo era un posticipo era il posticipo che chiudeva la la giornata l'altra cosa interessante l'aveva detta Giampaolo proprio descrivendo la partita che la Sampdoria avrebbe dovuto fare era anticipare l'anticipo cioè aspettarsi l'aggressività da parte dei difensori dei centrocampisti della Dea eh cercando appunto di comunque arrivare prima questo non è successo e questa è stata ovviamente detto col senno di poi detto seduti comodamente in poltrona è tutto molto molto facile però se una cosa avrei potuto avrei provato a fare diversamente fossi stato in Giampaolo e nella Sampdoria sarebbe stata eh diciamo il tentativo un po' più insistito di attaccare la profondità detto che oggi la Sampdoria ha dimostrato contro lo strapotere fisico e tecnico dell'Atalanta di non avere soluzioni offensive di non avere modo per risalire il campo però secondo me il Doria si è ostinato troppo a giocare palla addosso palla sugli attaccanti che venivano incontro quando è stato chiaro dall'inizio che Toloi e Palomino si sono mangiati eh rispettivamente eh scusate Caputo e Quagliarella che poi è uscito nel secondo tempo l'unico duello che ha avuto un po' di senso e che poteva dare senso e avete capito dove stanno andando a parare ma anche qui non c'è stato verso era quello tra Sensi e Froiler a un certo punto a metà primo tempo così come aveva fatto a San Siro Sensi ha iniziato ad abbassarsi per dare una soluzione in più eh per provare a palleggiare dalla difesa Froiler lo seguiva a tutto campo questo eh ha fatto sì che si potesse provare ad attaccare a sporcare la partita lanciando lungo e provare a provare ad aggredire le seconde palle che i difessori d'Atalanta eh eh insomma respingevano e creavano quindi però questo non è successo nel secondo tempo c'è stato qualche occasione per Caputo e questo è successo anche il gol annullato a Caputo è successo quando appunto anziché dare i palla addosso abbiamo provato a scavalcare e ad attaccare alle spalle la linea difensiva d'Atalanta che peraltro non esiste perché non ha una linea difensiva d'Atalanta giocando tutto a uomo ma insomma avete capito andando alle spalle dei difensori eh è anche vero che però da lì poi abbiamo preso il terzo gol quando abbiamo tentato un po' questa questa soluzione aprendoci un po' di più e consentendo al all'Atalanta di entrare in area non giudico neanche la prestazione difensiva singola dei giocatori della Samp insomma Magnani ha iniziato la serata pessima sbagliando l'impostazione e poi perdendosi Pasalic sul gol del 1-0 ma insomma non ha senso penso andare a a a leggere questo questo tipo di 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 errori di giocate singole c'è da archiviare presto sta partita non ho neanche sentito il post partita di Gianpaolo non so cosa dirà ma ripeto la domanda e non è retorica la mia veramente vorrei sapere anche cosa ne pensate voi al netto di uno sconforto perché forse la è la scopita più netta della stagione della Sampdoria nel punteggio sicuramente nei contenuti insomma se la gioca con quelle di Torino Firenze e di quella in casa con la Lazio è la prima pesante con Gianpaolo perché insomma alla Spezia e a Milano con Milano c'era stata in partita qui mai mai proprio mai e quindi pensiero a Udine appunto la domanda non retorica che mi faccio è c'è da preoccuparsi secondo voi per questa partita forse la risposta potrebbe essere se questa partita lascia strascichi mentali ma mi auguro ma e credo di no un'altra cosa che voglio sapere da voi è un quesito che mi è venuto durante il match ho chiesto anche ai colleghi della chat di del corner Sampdoriano ma nessuno mi ha risposto per il momento vedremo se arriveranno da voi queste se arriverà qualche spunto interessante così extra partita divaghiamo un po troviamo qualcosa di di utile sensato da questa serata decisamente buttata nel gettata nel bidone dell'umido dal punto di vista dell'intrattenimento è stata veramente come andare dal dentista però con una seduta che è durata un'ora e mezza e passa no mi chiedevo quali termini usate voi quali termini conoscete se ne sapete qualcuno divertente scrivetelo qua sotto per definire la sconfitta quella in cui non ci capisci veramente nulla il primo che viene in mente a me ma non so se si usa solo dalle mie parti o insomma è una rumba la Sampdoria oggi ha preso una rumba o forse anche una samba uno shampoo insomma se ne avete di divertenti così almeno ampliamo il nostro il nostro gergo il nostro slang calcistico niente grazie per essere arrivati fin qui anche in questo video dieci minuti aspetto i vostri commenti qui sotto e speriamo di vedere di meglio dalla prossima